Ad Abu Bakr Sumahoro, attivista e voce di chi non ha voce, per il suo impegno instancabile nel denunciare le ingiustizie commesse verso le persone più debole e indifese, per la sua lotta contro l'indifferenza e contro ogni tipo di sfruttamento. Con queste motivazioni è stato consegnato al giovane Italo Ivoriano il premio L'Africa nel cuore nell'ambito della 23esima settimana africana regionale. Premio ideato 16 anni fa da Italo Nannini, fondatore dell'associazione L'Africa Chiama, scomparso lo scorso 22 marzo. Abu Bakr si occupa da molti anni di tutelare i diritti dei braccianti e lotta contro ogni sfruttamento lungo la filiera agricola. Anita Amanti, neopresidente della Ollus, nell'introdurre la cerimonia di consegna del premio, ha illustrato le attività e i nuovi progetti dell'associazione nei tre paesi dove opera, alla luce anche dell'emergenza sanitaria. A consegnare il premio è stata la moglie di Italo Nannini, Teresa Fossati.